In Basilicata alvia la campagna vaccinale anti-covid, vediamo l'inizio a Matera. Dal prossimo 7 gennaio si torna alla vecchia classificazione delle zone, la Basilicata però rischia di rimanere in zona rossa. In Basilicata alvia i saldi, nonostante la zona rossa. Comune di Matera, il governo proroga la data ultima per la spesa di 900 mila euro per Matera 2019. Ben ritrovati con l'informazione di TRM, ora ci fermiamo per pochi minuti per una piccola pausa pubblicitaria, e poi torneremo insieme per approfondire le principali notizie di oggi. Rieccoci in studio, apriamo con il primo giorno di campagna vaccinale in Basilicata. Vediamo com'è andata a Matera. C'è stata bravissima, non c'è stato mancato ancora. È una vaccinazione come tutte le altre, ma è fondamentale, forse più delle altre, perché la malattia è veramente difficile, è veramente importante, è l'unico modo di uscirne questo. Primo a vaccinarsi a Matera nell'ospedale Madonna delle Grazie, il dottor Di Mona, direttore dell'unità complessa di anestesia e rianimazione e neopresidente provinciale dell'Ordine dei Medici. Noi speriamo che la percentuale di vaccinati sia certamente alta, più alta e più tranquilli saremo. Le adesioni sono già l'80% del 65% del personale medico che al momento ha risposto. L'appello è a vaccinarsi con serenità perché il vaccino è l'unica via d'uscita dalla pandemia. Lo dice chi ha toccato con mano il dolore e chi ha visto con i propri occhi. Dopo Di Mona i primi vaccini sono stati somministrati a un'infermiera e a una OS. Noi abbiamo visto soffrire tanta gente, andare via tanta gente, nonostante il duro lavoro. Il vaccino è tutto per noi, infatti nessuno ha esitato a dare l'ok a questo vaccino perché è importante. Si spera che questa sia la vera via d'uscita e che si metta forse un punto a tutta questa sofferenza che purtroppo abbiamo visto e abbiamo vissuto insieme a tutti i pazienti, dal più grave al meno grave. 975 le dosi di vaccino anti-covid consegnate all'ASM di Matera, 70 quelle somministrate in giornata e 25 sono state inviate all'ospedale Giovanni Paolo II di Policoro. Si inizia con il personale sanitario e si stima di passare tra un mese e mezzo circa la popolazione. Il direttore generale dell'ASM Gaetano Annese ha annunciato che tra un mese e mezzo inizieranno le vaccinazioni anche per i comuni cittadini. Spero sia l'inizio della fine di questa pandemia. I dati sono questi, che noi iniziamo oggi e proseguiremo ovviamente a tamburo battente fino a che fare le vaccinazioni al personale dipendente. Iniziamo dai medici, infermieri e os, dei reparti covid e poi estenderlo a tutto il resto del personale. Rappresentate questa mattina tre categorie, medici, infermieri e os. Perché questa decisione? Come primi vaccinati ho inteso rappresentare quelle che sono le categorie più importanti che poi hanno affrontato questa pandemia. Secondo lei quando potremmo vaccinarci anche noi cittadini? Io penso che fra un mese, un paio di mesi, potremmo iniziare già con la vaccinazione della popolazione. L'appello che giunge dall'ospedale di Matera a vaccinarsi e non avere paura, dottore, ribadiamolo questo concetto. Assolutamente non bisogna temere. Il vaccino è stato approvato, ripeto, dall'agenzia americana e dall'agenzia europea che sono quelle deputate a dare l'ok ai farmaci che sono sicuri. E per il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, quella del 2 gennaio è una giornata storica. Per lui somministrazione del vaccino tra un mese. È una data storica. Siamo al 2 gennaio 2021. Non pensavamo che potessero arrivare appunto i primi dell'anno. Forse è l'ospicio di un 2021 che cambierà, che sia l'anno della rinascita. Il mio ringraziamento va proprio al personale sanitario che è stato straordinario. I medici, ma anche le asma tutte, anche la regione, il governo che ci ha permesso di avere appunto il vaccino anche a Matera il 2 gennaio a inizio del nuovo anno. Il mio appello è che appunto questa straordinarietà venga ricompensata con il fare il vaccino. La vaccinazione è importante. Sarà un momento in cui possiamo davvero combattere questo comune nemico che è il Covid. Vacciniamoci. È l'appello che faccio ai miei concittadini. Circa l'85% del personale sanitario interpellato ha dato la propria disponibilità a effettuare il vaccino e questo è un messaggio importante. Sicuramente ci fa iniziare quest'anno con una luce migliore. Questa mattina sono arrivati i vaccini destinati anche a Policoro. Come sarà appunto organizzata la gestione? Sì, questa mattina abbiamo visto questa macchina che è partita con poco meno di 50 vaccini per Policoro. Anche lì appena arriverà la macchina, appena verranno consegnati, sono pronti a partire con le prime vaccinazioni rispetto al personale sanitario e nei prossimi tre giorni questa cifra raddoppierà così in quattro giorni finiranno le circa mille dosi arrivate a Matera e la settimana prossima arriveranno le altre e adesso questo circuito virtuoso continuerà rapidamente così finiremo subito i sanitari e poi si procederà con la popolazione. E lo dicevamo in apertura di telegiornale, è partita la campagna di vaccinazione anti-covid anche negli altri centri ospedalieri lucani per la somministrazione delle 4.980 dosi pervenute, 400 in particolare i vaccini di oggi per gli operatori sanitari del Potentino nelle sette sedi di somministrazione individuate dall'Asp, due nel capoluogo lucano e una rispettivamente a Venosa, Rio Nero, Senise, Villa d'Agri e Lauria. E vediamo adesso gli ultimi aggiornamenti sui contagi dal bollettino giornaliero lucano. La task force regionale della Basilicata comunica che nella giornata del primo gennaio sono stati processati 193 tamponi per la ricerca di contagio da coronavirus nei quali 39 sono risultati positivi e di questi 37 riguardanti residenti in Basilicata. Tra le positività riscontrate si segnalano 4 persone residenti a Potenza, 4 a Policoro, 4 a Montalbano Ionico, 3 invece rispettivamente a Matera, Pisticci, Avigliano e Francavilla sul Sinni. Nella stessa giornata sono inoltre guarite 32 persone, mentre si sono registrati 5 decessi che riguardano un residente a Bernalda, uno a Ferrandina, uno a Genzano di Lucania, uno a Matera e uno a Potenza. Al momento in Basilicata sono 5.949 le persone positive al coronavirus, delle quali 5.853 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 96 le persone ricoverate negli ospedali Lucani. All'ospedale San Carlo di Potenza 38 persone si trovano ricoverate nel reparto di malattie infettive, 28 in pneumologia, 10 in medicina d'urgenza e nessuno in terapia intensiva. All'ospedale Madonna delle Grazie di Matera invece 9 persone si trovano ricoverate nel reparto di malattie infettive, 8 in pneumologia e 3 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 185.449 tamponi, 172.264 dei quali sono risultati negativi. E dal prossimo 7 gennaio si tornerà alla vecchia, per così dire, classificazione delle regioni in zone. La Basilicata però rischia di rimanere in zona rossa. Il mondo e l'Italia stanno lentamente uscendo dall'incubo coronavirus. L'anno nuovo però, per alcune regioni, compresa la Basilicata, potrebbe riservare l'ennesima brutta sorpresa. In regione la stretta natalizia sembra non aver portato agli effetti sperati. La curva del contagio decresce, ma il famoso indice R-T risulta in aumento. Nel primo bollettino nazionale sui contagi del 2021, infatti, si era registrato un tasso di positività generale superiore al 14%. E, dati alla mano, sembra inevitabile che allo scadere del vigore del DPCM natalizio scatti la zona rossa per le regioni che presentano i dati peggiori, in questo momento Veneto, Liguria e Calabria, che al momento presentano un R-T superiore a 1. Molto vicini a questa soglia sono anche Puglia, Basilicata e Lombardia, che rischiano di non tornare, come la regola imporrebbe, alla zona nella quale risiedevano prima della stretta. Tutte le regioni, al netto dell'Abruzzo, ricadevano in zona gialla, ma sarà il governo, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, a dire l'ultima parola sulla questione la prossima settimana, quando l'Istituto Superiore di Sanità tornerà a stilare i report settimanali. L'indice R-T Lucano al momento sfiora l'1 e in regione si sono contati 314 nuovi casi di contagio nella due giorni pre-Capodanno. Massima attenzione sui dati dei prossimi giorni, che decideranno come sarà il gennaio dei Lucani, sperando in una veloce somministrazione dei vaccini, che finalmente faccia uscire tutti da questo incubo incessante. Andiamo adesso ad Irsina, dove il sindaco Nicola Morea ha annunciato il via alle prime misure di ristoro. Il sindaco di Irsina, Nicola Morea, ha annunciato l'avvio delle misure straordinarie per la zona rossa. Il grande lavoro di questi mesi, spiega Morea, ci porta all'ottimo risultato di essere i primi ad aver liberato le risorse che ammontano a 165.795 euro per il primo periodo di zona rossa, ottenute grazie all'impegno di alcuni deputati e in particolare di Vito De Filippo. Abbiamo accelerato il più possibile grazie al lavoro della squadra, e in particolare dell'assessore Candela, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, commercialisti locali e capi gruppo consigliari, siamo riusciti a dare il via alle misure. La ripartizione riguarda 100.000 euro destinati al bando per le imprese e liberi professionisti danneggiati dal Covid nel periodo zona rossa, 40.000 euro per famiglie danneggiate dall'emergenza durante lo stesso periodo, 15.000 euro destinati alle riduzioni tari per le famiglie con Isee sotto i 9.000 euro, ai quali si aggiungono altri 10.000 euro di bilancio comunale, e altri 10.795 euro come incentivo a trasferirsi ad Irsina per lavorare in smart working. Tra poco, ha poi continuato il sindaco Morea, libereremo altre risorse pari a 71.200 euro per incentivi alla nascita di imprese, al miglioramento tecnologico di quelle esistenti, ossia per sviluppare e-commerce e all'acquisto di nuove attrezzature. Nei prossimi giorni dettaglieremo tutte le misure del poderoso piano di investimenti a sostegno della comunità. Con orgoglio, a concluso, rivendichiamo il lavoro svolto che restituisce alla comunità il frutto di un impegno politico e amministrativo durato mesi. Dal 2 gennaio via ai saldi invernali in Basilicata, nonostante la zona rossa. Il 2 gennaio è la data convenzionalmente stabilita per questo nuovo anno di inizio della sempre attesa stagione dei saldi invernali. Le prime regioni a dare il pronti via ai tradizionali sconti di inizio anno sono Molise, Val d'Aosta e Basilicata, cui seguiranno il 4 gennaio Abruzzo e Calabria, e poi via via tutte le altre entro la fine di gennaio. Tutto bellissimo se non fosse per un piccolo particolare. Fino all'Epifania tutta la nazione ricade ancora in zona rossa, con l'obbligo per la maggior parte delle attività commerciali che non vendono beni di prima necessità a rimanere chiuse. Anche a Matera, nonostante qualche attività che ricade sotto la categoria di vendita di prodotti di prima necessità, le saracinesche rimangono abbassate. Una partenza a zoppa che al netto del prossimo 4 gennaio, quando per un giorno si tornerà in zona arancione, quindi con aperture parziali, nei fatti è rinviata al 7 gennaio, almeno per quelle regioni, che non rimarranno in zona rossa a causa dell'aumento dei contagi. Zona rossa, gialla o arancione che sia, si profila in ogni caso una stagione sotto tono per gli sconti. Nonostante l'impennata di acquisti avvenuta a dicembre con la complicità del cashback natalizio, secondo le stime di ConfCommercio, l'emergenza Covid si tradurrà in un miliardo di spesa in meno. E se l'aumento dei contagi dovesse davvero portare più regioni in zona rossa dal 7 gennaio, il danno potrebbe davvero diventare incalcolabile, facendo piovere sul bagnato per le attività commerciali già incredibilmente provate dal 2020. E a proposito di attività commerciali in difficoltà, sentiamo l'intervento della Presidente di Confesercenti in Matera, Angela Martino. Abbiamo oltre 390 mila imprese che chiuderanno e abbiamo circa 85 mila imprese che ne apriranno. La proporzione è inadeguata, perché chiaramente le imprese che chiudono sono maggiori rispetto a quelle che aprono. E quindi, detto questo, bisogna porsi delle domande. Quello che è mancato un po' all'Italia in generale è stata la programmazione. Purtroppo, come dicevo prima, non ci si può alzare la mattina e decidere di relegarci in zona rossa e dopo due giorni in zona arancione, proprio per creare confusione. Questo non è giusto. Bastava nei mesi scorsi programmare, perché chiaramente la pandemia ci ha costretti a chiuderci, ad aver paura, chiaramente, come è giusto che sia, ma se solo ci fosse stata una programmazione non saremmo arrivati a questo. Dovevamo seguire il modello Germania, va benissimo, ma il modello Germania andava seguito in toto. Vale a dire, il 75% dei ristori andavano dati immediatamente e non i contentini di cui, insomma, l'Italia si è fatta carico e ha dato ai nostri commercianti. Torna anche quest'anno il Bando Nazionale di Servizio Civile, Avis. Nel complesso sono 497 i posti a disposizione per altrettanti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e di questi due posti sono a bando per la città di Matera. La domanda andrà presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL e possono partecipare giovani senza distinzione di sesso che siano in possesso dei seguenti requisiti. Avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea oppure di un paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente sorgiornante in Italia, non aver riportato condanne anche non definitive con una pena di reclusione superiore ad un anno oppure una pena di reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o per detenzione illecita di armi. I progetti di servizio civile in Avis prevedono un monteore annuo di 1145 ore per la durata di 12 mesi e un orario di servizio pari a una media di 25 ore settimanali. Per saperne di più è possibile contattare Avis Nazionale al numero 02-700-6795 oppure via email all'indirizzo serviziocivile-avis.it E adesso andiamo a Matera dove il Comune è ricevuto dal Governo la proroga per la spesa di 900 mila euro relativi a Matera 2019. Vediamo. Il nuovo anno inizia con un'ottima notizia per Matera. Il Sindaco Domenico Bernardi ha annunciato che con l'ultimo decreto legge approvato il 31 dicembre il Governo ha riconosciuto la possibilità per il Comune di spendere entro il 2021 900 mila euro già stanziati dallo Stato nel 2020 per ultimare le attività amministrative e anche di rendicontazione relative a progetti e lavori avviati per Matera 2019. È certamente un'ottima notizia anche per i dipendenti a tempo determinato dell'amministrazione comunale i cui contratti sarebbero scaduti proprio il 31 dicembre e che grazie a questo intervento normativo possono affrontare il nuovo anno con maggiore serenità confidando appunto nella proroga dei contratti. Il primo cittadino ringrazia il Governo in particolare e il sottosegretario al Mise la materana Mirella Liuzzi che ha pazientemente seguito la vicenda mostrando grande sensibilità verso le esigenze della città dell'amministrazione e dei lavoratori. Dopo l'iniziativa dei giorni scorsi col diretti Basilicata offre un aiuto concreto anche alle famiglie bisognose di potenza individuate dal punto luce Save the Children e da San Gerardo La Porta associazioni che da anni si occupano di offrire un sostegno concreto a chi ne ha bisogno. Si tratta di mega confezioni del peso di circa 30 kg ciascuna contenenti prodotti agroalimentari donati da alcune aziende alla Confederazione Agricola. Si tratta di un progetto nazionale di col diretti che ha previsto 1500 pacchi in tutta Italia. Lunedì doneremo le prime confezioni disponibili alle famiglie potentine spiega il Presidente di col diretti Basilicata Antonio Pessolani e nei prossimi giorni gli altri pacchi destinati alla Basilicata. La presentazione dell'iniziativa è in programma lunedì 4 gennaio alle ore 10 nell'area antistante lo store Io Sono Lucano in via Pretoria a Potenza. E torna anche stasera il format di TRM Network Natale Insieme. Tre pianisti e l'ancestrale bellezza di Matera che coi suoi luoghi diventa palcoscenico privilegiato per il concerto di Capodanno in onda su TRM Network. Un emozionante mix di immagini e musica targati Piano Lab il festival itinerante della Aghironda dedicato al principe degli strumenti che col comune di Matera nell'ambito delle iniziative del Natale Insieme ha salutato il nuovo anno proponendo in sequenza i suggestivi recital di Roberto Esposito dal Belvedere al Tramonto e poi di Leonardo Caligiuri davanti alla chiesa di San Pietro Caveoso e di Viviana alla Saracina dal secentesco Palazzo Lanfranchi sede del Museo d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata. Anche oggi spazio all'intrattenimento con ospiti in studio collegamenti da remoto e musica live con un momento dedicato anche al progetto Sport for Peace e poi la comicità dell'attrice Elia Trivisani è il presepe Blu Notte di Guido Strazza esposto a Roma su iniziativa di APT a Regione Basilicata. In chiusura allo spettacolo Mi Ritorni in Mente Lucio Battisti raccontato dall'attrice Anna Rita Del Piano proposto dalla società cooperativa Centonote un omaggio ai successi del grande cantautore ma che non si limita alla semplice interpretazione delle sue canzoni. L'orario di Natale Insieme è quello consueto 20 e 30 su TRM H24 canale 16 del digitale in Puglia e Basilicata e 519 di Sky. Potrete seguirci anche sui nostri canali social la replica il giorno successivo alle 11 su TRM Art canale 602 in Basilicata e 296 in Puglia e alle 15 su TRM canale 111 in Basilicata. Per il momento è tutto grazie per essere stati con noi io vi saluto vi do appuntamento alla prossima edizione arrivederci. Grazie a tutti.